Allora, Presidente, c'è appena stata la presentazione della UIVA 24-25 qui in sala consigliare a Bustarsizio l'importanza del legame tra la UIVA e la città di Bustro? Credo che sia fondamentale. Avevo desiderio di fare la presentazione della squadra in comune per certificare il legame che c'è tra pubblico e privato e UIVA è un esempio. Ho fatto una fotografia di qualche anno fa, se non ci fosse stata questo asse dopo il Covid sarebbe stata ancora più dura di quanto è stato e mi sembrava giusto questa stagione che è la stagione della ripartenza sotto tanti aspetti, societario, squadra nuova, allenatore oggi anche assessore nuovo, tutti insieme possiamo raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo e ho detto anche che ci saranno delle difficoltà ma anche delle soddisfazioni ma insieme si vince Comune e UIVA.